Erano ricoverati al San Donato per altre patologie e prima sono risultate positive e poi negative al Covid-19. In sole 24 ore si è così ripetuto anche ad Arezzo un caso simile a quello che si era verificato in Valdarno, ossia tamponi positivi smentiti poi da un successivo controllo. L'Asla Toscana Sud-Est ha così deciso di aprire un'indagine interna sull'accaduto per capire come sia potuto avvenire l'errore. In Valdarno i casi registrati erano stati tre. Il primo esame era stato realizzato con una nuova tecnica messa a punto da un'azienda privata in uso nel Valdarno da pochi giorni. Il test era risultato positivo e tutti e tre erano stati così ricoverati nel reparto Covid del San Donato. Ma il successivo esame condotto all'ospedale Aretino aveva invece evidenziato la loro negatività al Covid. I tre pazienti dovranno comunque rimanere nella loro attuale condizione di isolamento per 14 giorni e saranno sottoposti a stretta sorveglianza sanitaria. Il caso Aretino riguarda invece due pazienti ricoverati al San Donato per altre cause e ad un primo esame con la tecnica di Azorin sono risultate positive al Covid. Al secondo esame è invece emersa la loro negatività. Le due pazienti restano quindi in ospedale per il trattamento della patologia all'origine del ricovero ma dovranno comunque rimanere nelle attuali condizioni di stretto isolamento per altre due settimane. Adesso spetterà l'indagine interna dell'Asla a far luce sull'accaduto.